Però questa ha preso la Redform Giustamente contro Mundariel Brom che deve fare Oh questi hanno Pantia un supporto Bisogna fare attenzione Ma mi sono chiamato così perché Quando abbiamo fatto il torneo Mi hanno chiamato male E hanno scritto una cosa del genere Fargola Allora ho detto Ok questo sarà il mio prossimo nickname Così è andata Credo sia già indaffarato Altrimenti avremmo potuto farlo Boh Vediamo un po' Cioè se vuole io ci sono Ma credo sia impegnato appunto All'Aki sì Oh Patton Che sa me raccontaci Non so Vulvasaur sempre Ciao ciabatta come stai? Grazie per l'Italia Grazie Cami Grazie grazie Potrebbe essere sì Ciao Cuppone Eeeh Ho capito Allora mi spiace Però dai Dai che ci sei Fatta è fatta capo Impossibile sbagliare Oh Che bello Io comunque farei Patting into top Anche se oddio Pure l'altra lì Vabbè possiamo sempre Ci sgancare Comunque ragazzi Senza chat Si gioca troppo bene Ah Ho capito Mi dispiace Tancarsi in Hit Grazie signor Brom Molto gentile Due Hit No due Hit Troppo scusami Non volevo tankarsi Quello lì Feeling sorry Actually Allora andando qui Non posso Gancare bot Oddio In realtà posso pure Gancare Posso pure Gancare al due Dire la verità Tanto Vuoi che non fatino Come delle scimmie Bot A voglia Se fatino Come delle scimmie Le gank Allora non sono convinto Perché la cometa Però per il resto Ho tutto a posto No ma cosa è successo Perché Cosa ne penso di Salas È forte Ok signorina Lux Popping off Fare Good job Tutti i miei sforzi Bot Ripagati E infatti fa schifo Nirim Avrei potuto prendere quella Però Ho fatto Cioè ho selezionato Le rune prefatte Poi ho pensato Al fatto che Non lo so Cosa ho voluto prendere Clash All argument Non è che cacchio Potevo prendere Onestamente Un po' di indecisione Ah Dark Harvest Ovviamente Non mi viene in mente Avete ragione Finalmente Dark Harvest Sì Era facile Hello Hello Andiamo da Mundariel Mundariel Già ha fatto la sola Mi sa Se Lux Avesse adoggiato La metà Della metà Della metà Sarebbe rimasta in vita Semplicemente correndo Verso di me O verso la propria torre Non so cosa Stava cercando Di doggiare Io penso Devo regolare Buona giornata Ma come Come è gentile Lei Ma se andiamo Di Sorcerer's Shoes Why not Ancora in placement Allora stanno Recollando Allora provo Mid in casa Vai Proviamo a prendermore Questa signorina Devi essere Un po' più paziente Capo Nier Brom Quale era Stannata Lei ha missato È difficile Se posso Farle una critica Da ragazzi Da ragazzi Pro so Che credici Che credici Capo Zero fiducia in se stessa Certo Certo Redox È diventata Una dual lane Questa E adesso attacchi Dei maghetti Inarrestabili Inarrestabili Semplicemente Dai Diciamo che ho sbagliato Diciamo che ho sbagliato Io Che è vero È vero Eh sì Però in realtà Mettendomi il black shield Ero fine Credo Vabbè Andiamo avanti Non ci pensiamo Non ci pensiamo Quest'acqua Forse è un po' inutile Anche se permette Alla mia rana Di attaccare Quindi Ogres No Il comeback Di set Potremmo fare Potremmo fare Double kill Sad Potremmo fare Abbondantemente Double kill Però non volevo Flashare E probabilmente Almeno serviva In realtà Giocandola bene Basta Vabbè Ma non abbiamo Paura di Katarina Oddio forse Un po' di paura Ce l'abbiamo No Sei Sei Let's go Let's go Il Sadio Già ha preso Il blue kaino Eh ma questo game È super Loosable Dobbiamo fare Un attimo Di attenzione Altro che Super Loosable Grazie per Il sub Grazie Aegis Grazie e benvenuto Super Gentile Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Mi spari Per motivarmi Fai Iragis Oh no Dangerous Ma che sta Buildando Brom Capo La vedo Confusa La polizia A casa Non arriva Però Il ban sul league È una possibilità Remota Ma una possibilità Dai Lux Costi skillshot Dai Dai Mundo Costi skillshot Grazie per il sub Tieni anche questo mese E ti mando i soldi Per venti Tagli il male regale Di Natale Mi raccomando Abbiamo Cioè Vabbè Non ne parliamo I guess Grande Lux Riuscite a farla scappare E viene Caterina E cosa fa Vinciamo Resta Vai Fai Dai Sei full vita Fai Dai Mi fai dare tu Che c'è Tutta la vita Pro Sì Let's go Allora Ci facciamo un po' di fatica A comunicare Però poi ci riusciamo Grazie Pier Bentornato Corriamo subito Giù Must Normale Prima Siamo presi La robina Lì Oh Oh Eh però Io sono un inter Qua Volevo la kill Volevo Volevo la kill Ma le volevo entrambi In realtà Ho sbagliato Va bene Va bene Va bene Dai Che nel Prowler Ragazzi Actually Più lost Che Che won Questo game Ma recupereremo Sono fiducioso Dai che sfiga L'ultimo colpetto Shurelia Ok È un acquisto Punte esclamativo Mappa Capo Ora Dobbiamo fare Step up E carriare È un po' confuso Per quanto riguarda La build Però Già che ha preso Un item È qualcosa Diciamo Guardalo Mundariello Guardalo Come tanca Non ha paura di niente Mamma mia Quanti dice che abbiamo Siamo Siamo disgustosi Siamo In un atto Abbiamo preso Un sacco di cose Fantastico Diciamo Qui l'intervento Era Particolare Una alla volta Una alla volta Ragazzi Continuate così Qua muoio da Kane Mi sa Però abbiamo Preso troppo Per non gridare E regalare qualcosa Agli altri Mi sembrerebbe brutto Il smorgane È abbastanza Abbastanza Incubo Si Ma questo mi chesa Ma si è fermato Cacchio Ma veramente Cioè in realtà Potrebbe ancora Venire a ammazzarmi Però la wave La voglio Cioè Se è meglio Per la wave Sempre Worth it Potrebbe aver panicato Ma dov'è il danno Dov'è il danno Perché non infligge DPS Why is it so weak Piango io per lui Guarda Deprimente Vabbè Alla fine Mi sono ammazzato Siamo comunque Riusciti a prendere Il gromp Quindi Una gran Soddisfazione Non sono sicuro Di averla qui Però ultimamente Sono un po' Offeso Con belvetto Da picco poco Comunque Non credo di verla Su quest'account Ok Abbiamo sbloccato Anche L'orsetto Verde Che non è proprio Un orsetto Quando uso L'altro Volentieri Capo Hai la squadra Susi Se l'avete fatta Ma Potevo prenderla 70 volte Potevo prenderla Ops Va bene Va bene Va bene My bad No no Prima inserire Tutta la squadra Mi hanno detto Poi Doresti riuscire Tutto bene Tutto bene Goldgun Tu come stai E vabbè Ancora ci vuole un attimo Grazie Grazie Iliasi del follow Potevo Potevo Ancora ci mancano un po' di soldini Dobbiamo andare a chiudere questo pepega game comunque Ho visto un pantheon Fluttuare da queste parti Sulla mia testa Non so se va per la wave Immagino visto che è pazzo Andiamo a prenderlo Facciamo anche il blue buff Eh si era una cometa Sad Non pervenuto il blue buff Potremmo anche fare baron Boh un po' tutto quanto possiamo fare Addirittura quella ha preso il mediacolo la matta Ah guardato Niente ambush allora Però caspita C'è la caterina per essere Cioè senza item fa male Assurdo guarda Strano Anthony Ma a me funziona tutto Cioè funziona tutto regolarmente Però dovrebbe essere il client banalmente Povera tristata Povera tristata Budini Susi Per proseguire la streak Quella sera Steffi Ma dai ma l'hai ucciso Prego Vitto devi installare uno mod Puntesco la nativa mappa Impossibile battere mondo Assolutamente impossibile battere mondo Purtroppo si My bad My bad Oh È stato Non so se è la skin o cosa ma Vi dico Ho fatto difficoltà Ho avuto parecchie difficoltà A cliccare quel portale Miseriaccia Questo lo lascio crepare Intanto vado da Tristanella che sarà Dai ma come cacchio ho fatto a sbagliare il coso Vabbè allora Aspettiamo qualcuno e No era lì Dai So sad Guarda Fuck Allora vado a raggiungere La vera si era aperta la challenge Sì però questa volta sono da solo Che poi alla fine La vera challenge è sempre contro se stessi no Vero ma è tristana Eh dai ma fight amici Secondo me conviene pushare qua E cerchiamo di chiudere il game direttamente Diciamo di sì C'è la possibilità Vediamo se riesco a prendere Tristanella Maledetta Ok Malepizze I danni che subisce I danni che subisce Che in realtà non subisce Guardalo guardalo Mundo gaming Finire simili Che schifo Beh sì Sì MSK Impossibile subire il danno Eh? La torre? Avete visto anche? Anche il danno alla torre è simpatico devo dire Ciao a tutto nel kit Ciao Le strutture anche non sembrano essere un problema E Gio Gio In giungla non è male Però credo che il problema è che in giungla non puoi buildare O meglio lo puoi buildare ma lo stacchi poco Quindi è un po' cringe Ce la devi fare con Radiant Perché poi non stacchi Sennò il Come si chiama? Heartsteel Che è la cosa che rende veramente 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 forte quel champ Onoriamo Lui Anche se pure Mondo è Cioè Dr. Brom Il Dr. Brom pure era Un bravo guaglione Un bravo guaglione